12.07 in attesa di giustizia seppegliamo i responsabili con il sorriso della nostra amicizia Curva Nord Bari e forza mia amata città rialzati i due striscioni che hanno accolto l'ingresso in campo di Fidelissandria e Bari assieme al minuto di raccoglimento. In ricordo delle vittime della tragedia del 12 luglio scorso in campo un amichevole precampionato che finisce con un pari concretizzatosi con due reti entrambe nella ripresa. Sicuramente meglio la Fideliss che ha mostrato buona organizzazione e misure compatte tra i reparti da rivedere il Bari sicuramente più convincente nella ripresa. Gara naturalmente sotto ritmo anche se l'agonismo e la voglia non mancano in entrambe le squadre e la Fideliss prova subito a non sfigurare contro una squadra di categoria superiore. Due soli giri di lancette e dalle grini esce in bello stile dalla difesa, corre per 30 metri palla al piede e conclude dal limite con Mikai abile a bloccare a terra. Poi fase di studio e gara che il Bari prova a comandare con Basce e Gomelt nel cerchio di centrocampo. Le azioni Fideliss invece partono tutte dai piedi di Mancino a cui Favarin ha affidato il pallino del gioco. Primo pericolo per la Porta Azzurra arriva al diciannovesimo con il secondo calcio d'angolo del match per il Bari ed il tiro dal limite dell'area di rigore di Gomelt. La palla è alta e non spaventa l'estremo difensore andriese. Ancora Bari, questa volta con De Luca che al 26esimo raccoglie palle e calcio al solitario dal limite conciliabile a bloccare a terra. L'agonismo del match si percepisce anche dalla munizione ingenua di Defendi per proteste. Nessun altro pericolo e primo tempo senza reti. Girandola di cambi per le due formazioni. Fideliss con Poppi in porta e l'esordio di falli in avanti con a destra Minicucci. In campo per il Bari invece in difesa Cassani per Tonucci. Fideliss molto corte e guardinga mentre i Galletti si affidano alla verve di De Luca per scardinare la difesa di casa ed in due minuti è proprio l'attaccante barese a mettere i brividi a Popp. Al sesto è Bascia a servire palla a terra per il tiro intercettato dall'estremo difensore andriese. All'ottavo poi è Defendi a penetrare a destra con la sforbiciata finale di De Luca ben bloccata da Popp. La gara resta vivace e stranamente tesa così al quindicesimo un contrasto prolungato tra Mancino e Bascia porta al fallo di quest'ultimo, ha qualche secondo di tensione e dà la munizione di entrambi per riportare gli animi tranquilli. Ancora cambia e dal diciottesimo Stellone sceglie ben 4-9 piedine con un 4-3-3 e Maniero al centro dell'attacco ma la Fideliss non sta a guardare e dal ventiseiesimo in contropiede con il nuovo attacco disegnato da Favarin trova il gol del vantaggio. Fall serve perfettamente la corrente Cruz che beffa Micai in uscita. La Fideliss prende coraggio e dal 33esimo è falla a scaldare i guantoni del nuovo entrato Gori. La squadra ospite non ci sta e dopo soli due minuti è Maniero che si incarica di suonare la sveglia con un tiro dai 20 metri che Popp respinge in angolo ed il giovane estremo difensore andriese dice ancora di no al 42esimo sulla punizione dal limite ben calciata da Maniero. Il forcing finale è tutto di marca barese e dalla fine del primo minuto di recupero arriva anche il pari. Martigno per Sabelli che da destra calcia perfettamente battendo l'incolpevole Po.